Una situazione solida, che posso dire se mi è consentito fare un piccolo esempio, visto che Guido chiamava in causa il fenomeno di 5 Stelle Grillo, in quel caso sono state fatte le primarie per i parlamentari online, hanno partecipato poche decine di migliaia di elettori, il PD si mobilita per le proprie primarie, si parla di milioni di elettori che partecipano. Io credo che occorra una giusta integrazione, sfruttando tutti i mezzi che vengono messi a disposizione correttamente, nel senso che c'è anche, come dire, bisogna sempre capire